Ma la tempora current. Il vivere quotidiano si fa sempre più complesso e i cittadini e le relative amministrazioni hanno molto di cui preoccuparsi. Ci sono però questioni che, sebbene non siano al centro dell'interesse collettivo, suscitano comunque difficoltà e disagi. È il caso della zona del mattatoio a Gubbio, in via della Piaggiola, su cui da anni si mette in luce lo stato di degrado. L'immobile, chiuso da oltre 13 anni, è stato dichiarato completamente inagibile nel 2017 e da allora, ma in realtà anche da prima, è divenuto più simile ad una selva che ad un edificio architettonicamente pregiato. Malgrado le continue cicliche segnalazioni circa l'incuria più totale della struttura, nessun intervento è mai stato previsto e programmato. I residenti della zona sono oggi più che mai stanchi della situazione, in quanto la scarsa manutenzione del verde dell'area che ha preso il sopravvento fa sì che molti siano i disagi di chi vive in loco. Non sono mancati infatti casi in cui gli abitanti della zona hanno dovuto far fronte alla presenza di animali indesiderati nei pressi dei portoni di casa, episodi che si vanno ad aggiungere alla costante visuale di una vera e propria selva oscura. Fresca fresca d'inizio dei lavori, via Marianelli, che dopo anni di attesa ha visto finalmente muoversi qualcosa nel vicoletto di accesso pedonale al centro storico. Dopo svariate segnalazioni dei residenti agli uffici di competenza del comune, in merito anche alla chiusura del parcheggio adibito a cantieri di via Fontavellana, parsa ingiustificata a causa del ritardo di oltre un mese dei lavori, il cantiere da questa mattina ha infatti preso vita. L'intervento di cui era previsto l'avvio il 21 settembre scorso porterà ad una riqualificazione della via con nuova illuminazione e pavimentazione, oggi fortemente dissestata, grazie al finanziamento di oltre 100.000 euro del bando di Galla Alta Umbria. Se i residenti di via Marianelli possono dunque cominciare a sorridere per la partenza dei lavori, di risate e di sconforto sono tutti gli altri cittadini che con ansia attendono la riapertura della Pian d'Assino, prevista teoricamente per lo scorso 28 settembre. Anas negli scorsi giorni aveva segnalato di come i lavori fossero stati bloccati a causa di alcune criticità emerse sul percorso e della conseguente ripresa avvenuta circa dieci giorni fa. Ma ad un mese esatto dalla scadenza il cantiere è ancora in essere sull'arteria con continui disagi e code per tutti coloro chiamati a utilizzare la vecchia direttrice. Gli occupini al disagio hanno prontamente risposto con l'ironia. I lavori saranno in smart working?